Un minuto, un solo minuto, per ascoltare, guardare, riflettere tutto in italiano. Qualunque lingua, qualunque cosa noi vogliamo imparare, ci sarà sempre una fase in cui ci sentiremo come Tarzan. Non saremo in grado di esprimerci al meglio, ma forse saremo in grado di comunicare, di farci capire, di far capire i sentimenti che proviamo per la nostra Jane, oppure per fare quella piccola cosa che ci permette di progredire e migliorare passo dopo passo in ciò che vogliamo imparare. L'importante è comunicare, ricordiamocelo.